Successo per lo spettacolo Il piccolo principe 2.0 presentato dalla cooperativa sociale Volo Alto. La rappresentazione teatrale si è svolta a teatro Aldo Giuffre presso il centro sociale di Battipaglia ed ha visto in scene i componenti della pazza idea storica compagnia teatrale creata nel 2001 da Maria Carmela Morra, presidente e fondatrice di Volo Alto. Lo spettacolo ha ripreso la trama del piccolo principe ma attualizzandone il contesto. Esso narra infatti le vicende di un fanciullo che si diletta a giocare ad un videogame riuscendo a raggiungere un ponteggio record che gli permetterà di guadagnarsi un bonus che lo proietterà fisicamente nel mondo virtuale del videogioco. Lo spettacolo ha toccato in modo leggero e a tratti comico tematiche importanti quale la solitudine, il pregiudizio, l'integrazione, la diversità. Il contributo per la partecipazione alla rappresentazione è andato a sostegno del laboratorio la pazza idea che al momento non gode di finanziamenti pubblici.